Il pareggio con il Parma ha evidenziato un miglioramento a livello caratteriale, a livello di non mollare mai durante la partita e di crederci fino alla alla fine. Tant'è che io ho fatto i complimenti ai ragazzi martedì perché sono stati bravi e l'avrei detto pure se non avessimo pareggiato. Io credo che abbiamo fatto una discreta partita, non una delle migliori ma contro una squadra che va in vantaggio e poi si difende ad oltranza tutti chiusi in venti metri poi diventa difficile per tutte. Oltre questo credo che l'abbiamo anche meritato quantomeno il pareggio fosse meritato. Questo è un campionato molto equilibrato ma è anche un momento storico dove ci sono sette squadre, l'ha detto Conte ieri e c'ha ragione, che tutte sette potrebbero vincere il campionato. Poi chi è più pronta, chi è meno pronta, chi ha subito il covid, infortuni in maniera più pesante, chi meno, però sono tutte squadre che possono stare in Champions e possono lottare per il primo posto e noi siamo dietro. Noi il Verona, la Sampdoria, il Benevento, tutte squadre che stiamo cercando di farci largo. Io parlo di noi con i nostri problemi, però domani se noi riuscissimo a fare il risultato pieno sarebbe il record nella storia del Sassuolo che non è lunghissima, però comunque c'è stato di Francesco, sono arrivati in Europa League e quindi sarebbe il segno ulteriore che stiamo facendo un grandissimo campionato. Ma quando noi giochiamo con le prime sette non è mai alla pari. Poi il campo, se saremo bravi a dimostrare il nostro valore, alla fine della gara si può dire che si è giocato alla pari, ma inizialmente non sono mai partita alla pari. Ma questo non vuol dire che non entriamo per fare i tre punti o entriamo timidi. La Lazio è una squadra che negli ultimi anni sta facendo benissimo. Dopo la Juve è quella che ha vinto di più, ha giocatori forti, hanno un'identità pure forte e quindi questo spiega la difficoltà della gara di domani. La Lazio ha qualità, fisicità, personalità, forse più di alcune delle altre sette. Ha esperienza e ha soprattutto il fatto che come noi, forse loro un po' di più, ma come noi stanno assieme da tanto, quindi si conoscono ed è un vantaggio sicuramente. Ma gli attaccanti sulla carta sono sempre determinanti, perché spesso fanno gol loro. Poi dopo la carta lascia lo spazio al peso che un giocatore ha nella partita e comunque i difensori ce l'hanno, soprattutto nella nostra squadra, perché fanno partire l'azione sempre loro, così come il portiere e così come i centrocampisti che fanno gioco ma servono anche a equilibrare. Quindi si parla di attaccanti, ma poi dopo, almeno nel caso nostro, sono tutti importanti. Basta che noi abbiamo un difetto, basta che una rotella delle 11 non giri a pieno che si vede a occhio nudo. e noi questo non possiamo permettercelo che uno o due siano sotto tono. Quando facciamo delle partite brutte è perché 4-5 giocatori vengono a mancare nel rendimento, nella prestazione e noi ancora più di altre squadre, per la modalità di gioco che abbiamo noi, lo paghiamo subito in maniera pesante. Abbiamo recuperato stamattina Bogat, ha ripreso oggi ad allenarsi con la squadra, abbiamo recuperato due giorni fa Maxim Lopez, ma è stato quasi sempre a parte. Abbiamo recuperato a inizio settimana a Locatelli, sarà della partita, fuori Berardi e Chirica si è squalificato, poi tutti gli altri, Burabianco là fuori e poi tutti gli altri ci siamo.